Il Dese di Gennaio 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 A Gorizia ho vissuto, amo molto quella città, a Trieste ho studiato, mi sono formato in università, a tutti ne voglio suonare, mi sono formato in università, a tutti ne voglio suonare, con quei suoni, sapori, propri uomini, colori fra noi. Ora vivo a Castiglione, con grande terra di diversità, foreste macolate, senza confini e scelta età, te lo devo dire, oggi Alaska è anche qua, con tutta questa gente che molte lingue sa, con tutta questa gente che molte lingue sa. Ma dimmi che cosa c'è che rende quali te ne sarà l'aria, la fragranza, questa voglia di libertà, di usare l'aria di conoscenza, che ci porta di qua di là, sarà che voglio capire, come un'altra parte di 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.